Si spostano, o meglio, tornano in Molise le indagini legate a due boianesi arrestati a Lecco mentre stavano preparando un cittadino ucraino a sostenere l'esame per la patente di guida, suggerendo le risposte tramite auricolari e trasmittenti. Questo episodio, che ricalca quello scoperto dalla polizia stradale alla motorizzazione di Sernia nel 2012, appare in un certo senso marginale rispetto a quanto emerso dalle perquisizioni effettuate a Boiano dagli agenti della stradale di Sernia e Campobasso. I primi riscontri che emergono dai documenti sequestrati nella stamperia clandestina, tuttora sotto la lente degli investigatori e della magistratura di Campobasso, aprono nuovi scenari. Patenti, carte d'identità e altri documenti rinvenuti, molti dei quali in bianco e dunque solo da compilare, almeno potenzialmente potevano essere usati da chiunque, per qualunque motivo, ad esempio per dare un'identità agli immigrati arrivati clandestinamente in Italia, oppure per permettere loro di andare all'estero, visto che quei documenti sono validi per l'espatrio e riconosciuti in tutta l'Unione Europea. Ma in teoria potevano essere utilizzati anche per coprire latitanti o comunque per compiere operazioni illegali. Il giro di documenti ricettati e poi falsificati, oppure creati da zero, potrebbe dunque abbracciare l'intero territorio nazionale. Certo è che il materiale sequestrato era tutto di prim'ordine. I documenti erano praticamente identici agli originali, fatti talmente bene che avrebbero potuto ingannare chiunque. Merito dei macchinari e degli strumenti informatici di ultima generazione posti sotto sequestro nel laboratorio tecnologico scoperto a Boiano. Ciò lascia ipotizzare un giro d'affari consistente. Durante le perquisizioni effettuate tra Lombardia e Molise, complessivamente sarebbero stati sequestrati circa 20.000 euro.